Ciao, oggi ti presento uno chalet esclusivo, raffinatissimo, iper accessoriato, si trova in una bellissima frazione in zona di Aramba, nel cuore del Dolomiti Superski, che potrai raggiungere in soli 10 minuti di moto slitta in dotazione con il rustico. Vieni con me e inizia a sognare! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!